Due anni e mezzo, tanto resterà aperto il cantiere per le opere compensative per l'A14 da parte di Autostrade per l'Italia che una volta ultimate trasformeranno totalmente la mobilità fanese. Nella zona antistante all'aeroporto di Fano, chi transita ultimamente per via Mattei avrà notato sicuramente la formazione di dune e diverse macchine movimento terra all'opera, oltre ad un andirivieni di mezzi pesanti molto serrato. Che cosa si sta realizzando e chi lo sta facendo? Alcuni hanno pensato alla realizzazione di una discarica o alla realizzazione di un grosso capanone industriale. Certo è che dalla strada le dune impediscono ogni visuale, alimentando così in questo modo la curiosità e facendo fioccare le ipotesi. Niente discarica, niente insediamenti industriali, niente di tutto ciò. Nell'area di 50.000 metri quadrati la ditta Pavimental sta realizzando un campo base necessario ad alimentare il cantiere. Sono delle dune che servono per mascherare dal punto di vista ambientale, di paesaggio, l'area del campo base. È un collegamento molto importante che serve per tutta la valle del Cesano e per la zona sud di Fano perché permetterà la realizzazione di un collegamento molto veloce, molto funzionale attraverso un nuovo ponte sul fiume Metauro e questo collegamento dalla strada provinciale orcianense, quindi la strada che va a San Costanzo, Mondolfo, che si innesta su questa nuova arteria, che taglia tutto il percorso attraverso il fiume Metauro parallelamente al ponte d'autostradale e arriva proprio qui a Tre Ponti dove attraverso il potenziamento della strada dell'aeroporto, quindi il proseguimento di via Mattei, giungerà verso il casello e la zona di Chiaruccia per cui sarà un'opera molto importante soprattutto per quella parte perché eviterà i residenti, i lavoratori che vanno a lavorare a Bellocchi di passare per il ponte Metauro, intasare se volete di traffico la parte della zona sud della città di Fano e quindi un'opera che noi riteniamo molto 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 importante. Quello che state facendo qui si chiama in termine tecnico scotico? Sì, questo è uno scotico superficiale che viene fatto chiaramente per arrivare ad uno strato più duro, quindi più compattato, che permette poi di fare il piano di posa e quindi sollevare, innalzarci e andare a fare poi i baraccamenti laddove saranno necessari e stoccare le terre dove è previsto di stoccare le terre. Quindi qui verrà poi tutto pavimentato, ci saranno le canalette idrauliche, insomma tutta la sistemazione che permetterà anche lo smaltimento delle acque e sarà effettivamente il campo operativo. Ecco, il terreno che state ammassando a modi dune serve giustamente per essere poi riposizionato? Servirà per essere riposizionato perché al termine dei lavori chiaramente questo materiale vegetale che è materiale buono verrà rimesso in pristino perché bisognerà riportare allo Stato Coante il terreno interessato.